A Formia c'è stato un violento incidente stradale, coinvolti nel sinistro un'auto e due furgoni. A Scauri è stata arrestata invece una giovane rom che era da mesi ricercata per furto. E a Latina continua la lotta alla droga, 15 arresti per spaccio, fermata un'organizzazione che da Napoli forniva la droga in tutto il sud pontino. E a Fondi, anche qui parliamo ancora di droga perché sono stati sequestrati 11 kg di sostanze stupefacenti dai carabinieri. A Formia invece si cercano nuove soluzioni per le tre famiglie sfollate dalla palazzina di Via Madonna di Ponza, crollata per l'esplosione il 7 di ottobre. Al comune di Minturno invece c'è stata un'irruzione dei venditori ambulanti, vogliono le autorizzazioni per posteggiare sul lungomare di Scauri. A Latina arriva un albero di Natale di ben 15 metri, una struttura imponente e suggestiva regalata da un imprenditore. E chiudiamo con lo sport, c'è grande attesa per il derby calcistico di domenica tra il Gaeta e il Formia. Iniziamo come sempre dalla cronaca, questo violento incidente stradale che c'è stato questa mattina a Formia, intorno alle 8 all'altezza del centro commerciale Itaca di Formia. Tre mezzi coinvolti nel sinistro, un'auto e due furgoni. La strada è stata bloccata, auto e furgone si sono tamponati in direzione Napoli, mentre un terzo mezzo che proveniva in direzione opposta è stato colpito frontalmente. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri per i rilievi, ma poco dopo questo già grave incidente se ne è verificato un altro che ha visto coinvolto uno scooter e un'auto. Entrambi i guidatori di questi mezzi sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Dono Svizzero di Formia. A Scauri invece è stata arrestata una giovane rom che era ricercata da tempo per furto. Il 24 ottobre i carabinieri del locale comando stazione rintracciavano e traevano in arresto una giovane rom pregiudicata e ricercata dall'autorità giudiziaria per furto aggravato. La donna doveva scontare la pena della reclusione di 3 mesi e 24 giorni. La donna è stata trovata trasferita immediatamente presso la casa circondariale di Roma a Rebibbia. Adesso ci spostiamo su Latina. È di 15 ordinanze di custodia cautelare con l'accusa di spaccio e stupefacenti il bilancio di un'operazione della squadra mobile di Latina condotta tra la provincia Pontina e quella di Napoli. Ai vertici dell'organizzazione c'erano due nomi noti alle forze dell'ordine. Padre e figlio, entrambi originari di Casal di Principe, già detenuti in carcere. Il primo, ritenuto un fiancheggiatore del clan dei Casalesi, era stato arrestato per traffico di droga ed estorsione. Il figlio, invece, era stato condannato, pensate per l'omicidio di Giorgio Soldi, ucciso a Latina nel 2009 in pieno centro cittadino. Nel corso delle indagini, partite da maggio del 2011, sono stati complessivamente sequestrati 35 kg di hashish trasportati da Napoli all'interno dei pannelli di un'automobile. La squadra mobile di Latina, guidata da Sebastiano Bartolotta, è riuscita a ricostruire i traffici dello stupefacente. Il carico veniva acquistato e gestito da Napoli per poi raggiungere il mercato pontino, per essere poi venduto al dettaglio da una rete di spacciatori locali. E sempre sulla lotta alla droga, anche a fondi, sequestrati 11 kg di sostanze stupefacenti dai carabinieri. Quasi 11 kg di marijuana sono stati sequestrati questa notte a fondi dal nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Gaeta. Le attenzioni dei militari si sono concentrate sulle attività di un tunisino da anni residente nel comune pontino, scoprendo la sua attività agricola del tutto illegale, grazie alla quale aveva accumulato nel corso degli anni più di 2-3 kg dello stupefacente già essiccato, mentre altri 8 kg quasi essiccati erano nascosti in una cantina della sua abitazione. La marijuana, se venduta, avrebbe fruttato al narco agricoltore ben 30.000 euro. E cambiamo argomento, ci spostiamo su Formia, dove arrivano nuove soluzioni per le tre famiglie sfollate dalla palazzina di Via Madonna di Ponza, crollata il 7 ottobre per l'esplosione di una bombola di gas. Si tratta di tre famiglie per un totale di 12 persone, tra cui 4 bambini, impossibilitati ad accedere negli appartamenti danneggiati dell'immobile. Il comune in questa drammatica vicenda ha dato prova della sua presenza e vicinanza, mettendo a disposizione degli sfollati la struttura alberghiera del Bayamar. Una soluzione temporanea di accoglienza in grado di far fronte alla prima emergenza. Il Sindaco ora ha dato inoltre la propria disponibilità a mediare con le agenzie immobiliari per consentire e facilitare la trattativa di fitto con i privati. Entro martedì il Sindaco farà il punto con il dirigente Servizi Sociali Italo La Rocca. Al comune di Minturno invece ci sono stati ben altri problemi, perché venditori ambulanti si sono recati al comune e hanno fatto anche irruzione nelle sale comunali per parlare con il Sindaco Paolo Graziano. Protesta quindi al palazzo comunale di Minturno ieri mattina. Una trentina di venditori ambulanti hanno fatto irruzione al primo piano, richiedendo di parlare con il Sindaco Graziano. Il motivo dell'irruzione al comune sono le mancate autorizzazioni per poter posteggiare sul lungomare. Al momento sono stati rilasciati soltanto una quindicina di permessi, ma molti sono gli ambulanti che non hanno ancora ricevuto queste autorizzazioni. Dopo l'irruzione di questa mattina nelle sale del comune sono intervenuti anche i vigili urbani e i carabinieri per garantire l'ordine. Il Sindaco Graziano comunque ha concesso una rapida riunione con una delegazione dei venditori alla presenza anche dell'assessore Aristide Galasso. Il primo cittadino ha infine fissato un ulteriore incontro per poter discutere con più calma su questa questione. A Latina invece si respira già aria natalizia perché arriva a Piazza del Popolo un albero di 15 metri. Con notevole anticipo arriva un enorme albero di Natale a Piazza del Popolo, una struttura metallica di ben 15 metri che ha attirato ovviamente la curiosità di molti cittadini. L'albero è un regalo alla città di Latina da parte di un imprenditore che ha deciso di contribuire personalmente all'abbellimento di Piazza del Popolo con questo suggestivo albero di Natale in passato esposto a Sorrento. Una volta completato l'albero sarà un tripudio di luci che potrà essere ammirato da Corso della Repubblica che è stato infatti collocato appositamente in una posizione strategica al centro della piazza del municipio di Latina. Quindi un regalo di un imprenditore che fa già respirare aria natalizia nel capoluogo puntino. E chiudiamo con lo sport perché c'è grande attesa per la tifoseria del Formia, per il derby calcistico Gaeta-Formia. Il derby che si terrà domenica 28 ottobre alle ore 11 allo stadio Antonio Ricciniello. Comincerà nella giornata di oggi la vendita delle prevendite. Pensate, ci sono 200 tagliandi presso l'agenzia Sita in piazza Santerasmo a Formia. Il costo del biglietto sarà di 5 euro e sarà valido per il settore ospiti. Questa era l'ultima notizia di oggi, l'appuntamento come sempre è con le prossime edizioni di Golfo News.